Andiamo al segno dello scorpione, per voi amici scorpioncini si avvicina un momento fantastico che è quello del Natale, della Vigilia, con la luna che transiterà nel vostro segno, lo farà nel corso della serata, è una luna che regala emozioni clavorose e devo dire anche tanta tanta personalità, sentirete l'avvicinanza dei vostri parenti, delle persone care, delle persone che mi vogliono bene, forse se c'è un piccolo neo è il rapporto con il partner che ancora non è perfetto al 100%. Amici tra poche ore sarò...